secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie figlio di traia, meno male, in realtà è god, in realtà è god per me eh, minchia è god cioè, sarebbe stato god se mi avesse dato delle carte giuste adesso lui ogni volta che tira, ogni volta che prende testa, prende un'energia a fuoco ok, zero, zero, let's fucking go si eh mamma mia, quanta gente allora, che cosa mangiamo a Roadhouse, raga, aiutatemi un po' consigliatemi qualcosa da mangiare a Roadhouse ci sarà un menu online, mentre la fai mi prendi poco, ma siamo fottuti ok 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 no mi sono no mi sono perso quando mi hai proposto il toy story quello dovevo prendere giustamente ogni occasione è persa si dice no però in quel giornata li ho preso un distributore di palline molto figo se quelli no in realtà no ma mi serve quindi è proprio per utilità di utilizzarlo però il ludi che parlava figo hai venduto il figa ciò come la va come la va come la va altro come davetti posso dare delle informazioni giuste voglio anch'io quella protezione per le carte merda due charmander ti prego ti prego tre croci tre croci ti prego tre croci croce buongiorno amore mio ma braccio di ferro per condire gli spinaci usava l'olio di olivia perché superman porta i vestiti attillati perché porta la s salvefaccina che ride a creta pelle aspetti pinna 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 lei non sta bene pinna lei le pensi che posso fare un cristo dio di endgame con perché il braccio di ferro usa l'olio di olivia del cristo puttana grazie pinna intanto grazie dei 27 grazie dei 27 no non sono carico per niente meri oggi prendo il cazzo ci vediamo a cesena terminator nice devo finire queste stronze missioni della funcia del cazzo tre me ne mancano colpisce avversari con una stronza pistola tamburo del cazzo porca di quella puttana di quella merda troia merda minchia o io sono cavoli si ma ti bastano andiamo razzo lei che può aprire la mappa a quanto sono secondo lei di distanza dalla se dal bordo c'è di quella ok la risposta è secondo lei dal bordo mi vedono no no se guardano di qua in zona si ok ok mi fai un bam per favore non lo vedo è troppo nero non mi ricordo ai per lo spacchettamento la raga troppate tre cinque sab che ne prendiamo ne apriamo un'altra caso e ma mi dovete dire se da sopra sotto da sotto a sopra per favore perché se no non so bene come come comportarmi non so quanti anni hanno queste aste questa è un'asta giraffa della tamburo con il clamp a chiusura guarda supporto per tom con la palla per fissarlo poi aspetta c'è roba che non so neanche che cazzo c'è dentro hanno diminuito lo sport rate delle mobility 007 20 filippo ti saluta mia sorella carlotta ciao carlotta ciao phil come va abbiamo posizione protetta numero 2008 45 intanto abbiamo da fare uno sbusto poi facciamo l'ultima partita poi andiamo a giocare a pokémon pocket la videocamera la mettevo lì però tu scenditi lì un attimo raga arriva raga un secondo ok feffac abbiamo discord qualcuno mi feffac lo chiamo eccoci qua pronto salve ha preso l'altro ragazzo adesso l'aggiungo tutto bene e dica gentilmente che c'è che c'è che c'è questa cazzo di banana lasciamo perdere lasciamo perdere ah no aspetta non ho ancora fatto un saluto generale a tutti i ragazzi che stanno guardando la live giacomo buongiorno cervo veloce buongiorno chimbro buongiorno anche lei cpr 7 giovane no è un problema per quelli che gli bazzicano intorno da il signore gentile quella quella questa a ci siamo coperti le mani oggi è stamattina il secondo freddo abbiamo preso stamattina Eva meno due non ho capito meno male meno male meno male meno male dix io io 5 dix 4 mesi ha detto altri 27 anni di live sicuro ecco lei me lo auguro bicipite bicipite grazie dix